Cercasi svolta disperatamente, cercasi punti ed un successo che manca da oltre due mesi. Si gioca molto il Foggia che alle 18 di oggi allo Zaccheria sfiderà il Palermo, un incrocio che riporta alla mente tempi ormai andati e due squadre che vivono due momenti diametralmente opposti. Da una parte il Palermo rigenerato dalla cura Baldini, dall'altra il Foggia di Zeman ancora a caccia di un'uscita dalla crisi che perdura da dicembre. Scelte quasi obbligate per il tecnico Boemo che recupera Di Pasquale, arrocca a mezzo servizio e ritrova Peterman che ha scontato il turno di squalifica. Scelte obbligate sulle corsie, solo due i terzini a disposizione mentre qualcosa potrebbe variare nel tridente d'attacco. La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio tuttavia non dovrebbe discostarsi da quella che appare in grafica. Scualificato a Lastra, peraltro infortunato, toccherà a Volpe tornare tra i pali. Nicolao e Rizzo occuperanno le due fasce con Sciacca e Di Pasquale a ricomporre il tandem che nella prima parte di campionato ha fatto della difesa il punto di forza del Foggia. A centrocampo Peterman sarà il play con Di Paolo Antonio e probabilmente Gallo Interni. E poi il tridente affidato a Turchetta, Ferrante e Curcio. Calcio d'inizio alle 18, arbitrerà l'incontro Ricci di Firenze.